l'altra best practice legata alla logica dell'automation che vi mostro ora è immediatamente applicabile dal primo giorno di utilizzo di 2p perché secondo me riguarda anche il buon senso di operare all'interno di un'organizzazione e questo mi riferisco al fatto che quando cerchiamo un cliente, un fornitore, qualcuno che appunto lo stiamo cercando sul suo smartphone o in ufficio e lui non risponde non sappiamo mai quando è il momento corretto per richiamarlo perché se continuiamo a chiamarlo naturalmente diventiamo gli stalker, infastidiamo la persona e quindi si dovrebbe capire quando è il momento corretto per chiamarlo. Questo si risolve facilmente con l'impostazione di un modello di mail che contiene un pulsante interattivo che fa scatenare un'automation, vi faccio vedere nel caso pratico. Nuovo messaggio, ho appena provato a chiamare Gianni, Gianni è un potenziale cliente, non mi ha risposto, scelgo di inviare una mail come dal modello che il sistema appunto mi propone, faccio conferma, benissimo, scelgo in questo caso il mittente potrei averlo dato di default, scelgo l'indirizzo a cui inviare questo modello, in questo caso Gianni, se voglio posso personalizzare la mail ma non è il scopo appunto di questo presente video, invio, come vedete c'è un pulsante interattivo che è stato creato dall'amministratore di sistema della vostra organizzazione con le descrizioni che voi volete, potete metterne anche più di uno, premo invia, ora che cosa accadrà? Nel momento in cui la risorsa riceverà, quindi in questo caso Gianni, scusate, il cliente esterno, il fornitore, chi dovete chiamare, la banca, riceverà questa mail, lui si troverà in condizione di farvi sapere in modo estremamente semplice che ora potete contattarlo perché lui si trova appunto ad essere libero. Allora il sistema che cosa farà? Come vedete appunto Gianni ha aperto il messaggio, questo è grazie alla funzione di tracking, naturalmente ho il consenso da parte di Gianni per poter monitorare il fatto che lui abbia aperto il messaggio come richiesto dal nuovo GDPR, però l'utilizzo del pulsante interattivo che c'è all'interno della mail, che cosa permette di fare? Permette di far sì che quando Gianni preme contattatemi ora, oltre a ricevere immediatamente una notifica, però io potrei anche non essere di fronte al PC in questo preciso momento, il sistema mi ha fatto scatenare in automatico un incarico impostato all'interno delle regole di automazione, un incarico di tipo urgente che come vedete fa sì che il pop-up non vada via dal mio schermo, per cui mi sta dicendo che in questo momento lui è disponibile ad essere contattato e quindi io che ho inviato il messaggio mi trovo un incarico per contattarlo. Clicco sull'incarico, come vedete c'è la mail che io ho inviato a Gianni e c'è indicata chiaramente che alle 12.16 lui ha premuto contattatemi ora. Adesso questo è un esempio legato ad una mail da modello che si utilizza quando ho chiamato qualcuno e lui non mi risponde, ma provate a immaginare in quante situazioni si può utilizzare questa logica di automation. Ad esempio io potrei fare una mail di follow-up relativa ad un'offerta dove all'interno c'è scritto contattatemi per chiarimenti, contattatemi più avanti, non sono interessato. Quindi impostare queste regole di automation che è semplicissime, abbinate a dei pulsanti interattivi che voi costruite in maniera veramente semplice, permette di far sì che possiate interagire con l'esterno ripeto Gianni in questo caso non ha tu app, quindi avesse tu app o non ha tu app le cose non cambiano e ricevere in automatico dal sistema tramite appunto le funzioni di automation delle azioni da poter svolgere. Questo oltre al pulsante interattivi può essere fatto anche tramite i download di un allegato quindi se io ad esempio utilizzassi i tuoi app per fare del direct marketing dove io sto mandando un'informativa in allegato e volessi fare in modo che il sistema mi dia un incarico richiamare domani dove il domani è relativo a quando lui scarica in quel momento l'allegato è facilmente impostabile, quindi se lui scarica l'allegato a questo punto mi deve dare un incarico richiamare domani. Lui non ha scaricato un incarico, magari fra due giorni ha un incarico di fare un follow-up che è diverso rispetto al fatto che abbia scaricato l'allegato. Tutte queste automazioni sono impostabili anche per un'azienda molto piccola che lavora su servizi o processi completamente customizzabili nei confronti del cliente e quindi l'automation aderisce ad ogni tipo di processo aziendale. Grazie a tutti! Grazie a tutti!